Eccoci con un volto noto di Canale 8, Gianpaolo Montineri, questa volta non in veste di giornalista sportivo, ma perché parliamo noi di eventi, questa volta un evento che si terrà a Floridia. Sì, ho questa incombenza di essere l'art director di questa manifestazione. La seconda edizione è la Sagra dei Cavatedi, tra l'altro come stagione, come periodo è la prima, o una delle prime sagre della regione Sicilia, quindi una grande responsabilità. Non sono da solo, c'è Marco Locarmine nel ruolo di consulente di mercato, che si è reso importante il suo lavoro per l'esposizione commerciale. 40 standisti da tutta la Sicilia che rappresenteranno il logo artigianale produttivo di alcuni momenti, alcuni prodotti, perché sono quelle l'importanza. Uno stand esclusivo che ci farà degustare appunto i cavatelli. E poi ci sono in Via Roma tutte le arti delle chincaglierie, l'idea nostra artigianale, quella fatta in casa. Saranno una trentina, ci sono tre associazioni anche legate con noi. Tre giorni, iniziamo venerdì pomeriggio alle 17 con gli sbandieratori di Floridia. Loro sono già un grande logo a livello nazionale, perché vengono chiamati anche per trasmettere questa idea dell'efficienza dell'acrobazia con le bandiere fuori dalla Sicilia. Con un'ora di spettacolo mi dicevi. Sì, un'ora di spettacolo, faranno questa sfilata per Via Roma fino ad arrivare in piazza. Ci sarà comunque alle 17.30 il classico taglio della manifestazione con le istituzioni. E poi insomma il concerto alle 21, che saremo tra la gara di calcio Napoli-Juventus, noi saremo nel mezzo con la dedica ad uno dei più grandi nomi italiani, che in questo momento per assurdo tutte e due sono fermi, sia Vasco che Ligabue. Noi abbiamo scelto Ligabue, perché è molto ancora più contemporaneo e giovane di Vasco, con i trambustri pop-corn. Poi si passa al sabato, apertura agli stand alle 16, e lì andremo a presentare meglio le aziende, saremo in piazza, quindi avremo modo di conoscere meglio cosa si crea di impresa artigianale in Sicilia. La piazza del popolo è già trasformata da giovedì sera. Abbiamo creato una grande fotografia, perché non è facile assemblare in un centro storico una fiera stendistica importante. Sabato sera con i Jufa, un'altra realtà regionale importante, formazione che fa della loro energia baltica, il loro status simbolo, tra l'altro in presentazione del loro disco, un tournée in Italia dopo il nostro concerto a Floridia. Domenica alle ore 10, un'azienda solarinese, Barbagallo, ci faranno degustare una sagra della ricotta. Presenteremo il processo di preparazione, quindi anche lì un po' di istruzione tecnica. Domenica pomeriggio arrivano le auto d'epoca, da un'associazione di vizzini, le auto da corsa, con un team rally. Piazza del Popolo diventa un grande bagaglio culturale, gli stendisti offriranno il famoso happy hour dalle 17.30 in poi. E poi si termina con lo spettacolo finale. Esatto, e poi andremo a ridere alla grande con Carlo Caneba.